benvenuti nel mio canale di cucina oggi vedremo come cucinare le cotiche con i fagioli ingredienti per questo appetitoso piatto 500 grammi di cotiche pulite sbollentate in acqua calda per 10 minuti e poi tagliate a pezzettini 500 grammi di fagioli rossi 2 cipolle bianche tagliate pezzettoni 200 grammi di pancetta che abbiamo sbollentato assieme alle cotiche 2 peperoncini freschi e 800 grammi di polpa di pomodoro vediamo insieme la preparazione rosoliamo il peperoncino con un generoso giro d'olio poi uniamo la cipolla e la pancetta e quando la cipolla sarà imbiondita poniamo le cotiche le rosoliamo per qualche minuto e poi aggiustiamo di sale e aggiungiamo i fagioli uniamo la polpa di pomodoro e procediamo la cottura a fuoco lento per due ore trascorso il tempo di cottura le nostre cotiche sono cotte l'ideale sarebbe lasciarle riposare io le ho cucinate la sera prima e le ho mangiate per pranzo vi assicuro che mangerete una vera prelibatezza preparate questa ricetta e ditemi cosa ne pensate se vi è piaciuto il video mettetemi un like lasciatemi un commento in descrizione condividete il video e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale di cucina spero che questo video vi sia piaciuto se avete domande chiedetemi pure io vi risponderò sono qui apposta per voi vi saluto e vi aspetto alla mia prossima video ricetta ciao ciao da Gian